Introducendo questo ultimo dibattito non posso non pensare a chi è stato qui prima di noi e chi ha contribuito a costruire tutti i dibattiti di questo festival quindi penso anche ad esempio alla comandante Nasrin che è salita su questo palco a Marta, Antonio, Marco e tutti gli altri compagni e compagni che ci hanno aiutati a fare un percorso che è partito da Cobane e dalle sponde del Mediterraneo e ha attraversato l'Europa e ha prodato poi all'Italia con l'ultimo dibattito della settimana scorsa e questa sera restringiamo ancora la prospettiva e arriviamo a un livello più locale che ovviamente non ha per noi un significato localista ma che vuole anzi vedere il Veneto come quel territorio nel quale possiamo costruire delle pratiche per un progetto locale che vada a trasformare l'esistente e mettere in discussione il reale. Quindi in questo senso non possiamo ovviamente non pensare a quello che sta succedendo in Grecia penso che tutti noi abbiamo testa e cuore lì e ci sembrava doveroso aprire con questo contributo e soprattutto a quello che è successo in queste giornate e la serata di ieri e alla possibilità che sia dato un popolo attorno a una domanda di cui abbiamo scritto anche oggi su Global che è sostanzialmente provare a darsi la possibilità di rispondere a una domanda che è quale vita scegli? Quale vita vogliamo? Come decidiamo il nostro futuro? Con occhi la Grecia si è data questa possibilità che invece per arrivare al tema del dibattito di stasera sembra una domanda molto difficile da farsi in Veneto dove la cementificazione, la corruzione e appunto la regione delle grandi opere in cima agli scandali di tutta Italia sembra un luogo dove è molto difficile poter pensare di incidere in modo diverso e di scegliere effettivamente un futuro. A questa domanda proviamo a rispondere questa sera e vado a presentare i nostri ospiti che sono dei giornalisti e degli scrittori che con i loro lavori hanno interpretato questo mondo e ci danno degli strumenti per andare a fondo e per cercare di ridare un senso a quello che sta succedendo nella nostra regione. Sono Renzo Mazzaro, autore del recente Veneto Anno Zero ma molti di noi ricordano anche i padroni del Veneto abbiamo Giorgio Barbieri della Tribuna di Treviso che è il coautore di un libro che si intitola Corruzione è una norma di legge Ernesto Milanesi ha recentemente pubblicato un romanzo insieme a Canetta che si intitola Pesci in Barile e poi un altro contributo sarà quello di Maurizio Dianese che è coautore del libro Maose e la retata storica vedremo che ci sono dei fili conduttori che uniscono tutti questi lavori e secondo me è importante sottolineare che il dibattito di stasera è costruito sul tema delle grandi opere e della cementificazione in Veneto che è una cosa sulla quale lavoriamo da tanto tempo però con un taglio un po' diverso che appunto vuole partire da degli elementi culturali e quindi da dei libri e questo mi sembra un punto importante soprattutto perché vedremo che questo elemento della cultura tornerà questa sera se è vero che il presidente della regione Zai ha dichiarato in un consiglio regionale subito dopo gli arresti della retata storica del 4 giugno 2014 che questo era tutto un problema culturale oppure se pensiamo che uno dei principali soggetti che sono al centro di questi scandali ovvero Galan è stato ministro della cultura oltre che dell'ambiente e ancora a tutti gli effetti presidente della commissione cultura della Camera fino a mercoledì giustamente, adesso arriviamo a capire anche perché la narrazione è anche al centro del lavoro iniziale che ha dato l'idea di questo dibattito che si chiama Cemento Arricchito e che è un'inchiesta che stiamo sviluppando con un gruppo di videomaker, giornalisti e ragazzi giovani che lavorano nella comunicazione insieme a Global Project e a Eco Magazine che vuole attraversare il Veneto delle grandi opere a tappe quindi siamo partiti in aprile e la prima puntata è stata ovviamente su Venezia che sarà anche il punto di partenza di questa sera e stiamo facendo un percorso in realtà a nord-est perché arriviamo anche in Trentino e il cuore di questo lavoro di inchiesta è parlare sì delle grandi opere della cementificazione nella nostra regione ma soprattutto provare anche a raccogliere quelle voci più piccole che spesso vengono nascoste ma che invece sanno farsi sentire molto bene che sono quelle dei comitati e delle resistenze ambientali del Veneto e del Trentino grazie a tutti grazie a tutti